Di ripetermi, solamente una brevissima replica al consigliere Mereu, dove sta il generale sta anche il particolare, quindi semplicemente prima era stato individuato un ordine del giorno specificamente per l'aggiornamento del numerario relativo alla BIS-3, adesso, raccogliendo anche alcuni vostri soggenimenti che sono stati pertinenti, abbiamo esteso la verifica e lo studio per l'adeguamento a tutte quelle che sono le aree oggetto di corrispettivo anziché la realizzazione di parcheggio in cessione ad uso pubblico. Per cui di fatto abbiamo reso in termini più generali quello che dovrebbe essere verificato, l'ha già detto il consigliere che mi ha preceduto, è opportuno ogni tot di anni fare delle verifiche anche rispetto a quelle che sono le esigenze della città e sappiamo tutti, soprattutto nelle zone dove tra l'altro si stanno realizzando le pedonalizzazioni e dove si sta estendendo la ZTL, la realizzazione di parcheggi di struttura o i cosiddetti fast parking saranno propedeutici alla migliore fruizione di queste aree e soprattutto anche nell'interesse di coloro che sono i residenti i quali avranno necessità di maggiori stalli. Per cui l'aggiornamento di questo numerario non è fatto e finalizzato a, tra virgolette, prenderci una piccola rivincita nei confronti di coloro che vanno a realizzare gli investimenti e le intraprese edilizie, ma semplicemente a rendere più congruo. Loro hanno dei costi benefici, per realizzarlo dovrebbero realizzare e darci dei parcheggi che normalmente, soprattutto nelle piccole lottizzazioni, vanno sottoterra e i costi generali e di realizzazione sono enormemente più elevati di quelli che poi possono essere realizzati mediante una realizzazione di struttura di grande dimensione. Tant'è vero che in quel famoso studio originario, nelle medie, tra i minimi e i massimi, potrete anche voi, se avete occasione di guardarlo, rilevare che i costi maggiori sono proprio quelli sostenuti dai privati che tra l'altro avevano realizzato investimenti edilizie anche di una certa dimensione. Per cui di fatto sarà sempre molto più conveniente pagare il numerario piuttosto che anche l'importo che verrà fuori dall'aggiornamento, ma per contro avremo la possibilità di avere una dotazione finanziaria adeguata rispetto a quelle che sono le esigenze della città e una miglior fluibilità delle aree cosiddette penonali oppure di maggior intensità di traffico e commerciale. Per cui io credo che sia un buon passo in avanti e quindi confermo la proposta dell'ordine del giorno.